Ok, eccoci alla seconda parte di questo video mi ha visto che abbiamo ottenuto una sfera questa sfera in realtà è ottenuta usando un modificatore quando si ha dei modificatori è sempre meglio una volta che si è soddisfatti se la trasformazione in sfera è venuta con successo è opportuno applicare i modificatori mentre si è in object mode e quindi facciamo apply e quindi il modificatore adesso è diventato veramente la mesh questo vuol dire che se noi andiamo a vedere il nostro oggetto è proprio questa struttura di mesh che ci interessa l'altra cosa interessante che abbiamo detto è che vogliamo fare il backing dei riflessi il backing dei riflessi c'è un problema non lo possiamo fare con... allora si dovrebbe farlo qua dove c'è la telecamera e qui dovrebbe comparire un'opzione di bake che però come vedete qui non compare perché non compare? perché siamo in Eevee Eevee serve solo per avere un'idea molto chiara di come si modella ma non è lo strumento per fare i rendering veri e propri quelli che ci interessano per esempio per il backing quindi per ottenere il backing backing cosa si intende? l'abbiamo già accennato vuol dire proprio fare una foto di quello che sarebbe la superficie la texture attorno e di averla come texture in modo da poterla applicare in OpenSim quindi l'idea è quella di avere un... quindi andiamo in modalità Object perché vogliamo avere questo oggetto e poi qui vogliamo aggiungere un nodo che rappresenterà il nostro backing ma per poterlo fare dobbiamo cambiare Render Engine quindi da Eevee andiamo a Cycles e nel momento in cui passiamo a Cycles vedete che sembra cambiare poca roba però siamo diventati... vedete che cambia qualcosina in realtà e cambiano questo Path Tracing Samples che sta cercando di rendere proprio l'idea di tutti i raggi di luce che attraversano la scena e quindi Cycles fa questo mestiere tra l'altro è possibile di dirgli di usare per essere più veloce anche la GPU una scheda grafica ma noi adesso ci accontentiamo della CPU normale ma abbiamo soprattutto il backing qua ora prima di fare il backing occorre inserire un nodo e lo inseriamo proprio qua facciamo Add e inseriamo una texture perché noi vogliamo avere una texture che sarà una image texture questa texture dobbiamo averla parallela al nostro node editor e in questa texture ci dirà dove andiamo effettivamente a fare avere la texture bruciata cioè baking, cioè vogliamo cuocere la texture quindi avere effettivamente questa texture qua per averla e perché tutto sia posto ricordate che ci deve essere la vmap però se avete seguito più o meno quello che abbiamo fatto la vmap dovrebbe esserci se avete dei dubbi andate qui dove c'è scritto v-editing e qui vedete che abbiamo la nostra sfera e qui abbiamo la nostra uvmap se praticamente qui se noi facciamo selezioniamo e selezioniamo vedete che questa qui è una uvmap che sarebbe questa specie di croce che rappresentava l'uvmap del cubo che però questo cubo adesso è stato trasformato dal modificatore in modo tale da raggiungere le dimensioni di una sfera quindi ce l'abbiamo non c'è problema torniamo nello shading object ricordiamoci di essere in cycles ricordiamoci che vogliamo fare una foto e qui abbiamo bisogno di creare una texture vuota una immagine facciamo new questa immagine gli diamo baked trattino image gli togliamo l'alpha perché non la vogliamo trasparente e facciamo ok quindi a questo punto qui abbiamo un'immagine che è vuota che possiamo trovare anche rintracciare qui sulla sinistra vedete che qui ci sono tutte le immagini possibili qui c'è la nostra baked image che in realtà più che vuota è proprio nera ora questa immagine nera è pronta per essere diciamo compilata dal baking quindi per farla semplicemente ricordatevi di aver selezionato col tasto sinistro questo questo nodo aranciato dopodiché nel baking se va tutto bene dovete aver selezionato ovviamente l'oggetto fate baking cioè cliccate su questo tasto quello che succede è che qua vedete che compare un indicatore di progresso e questo indicatore di progresso quando ha terminato se tutto è andato bene creerà qui sulla sinistra un'immagine che è poi quella che andremo a importare e ad adagiare vedete abbiamo l'immagine quindi lui ha preso tutte le singole facce ha visto che cosa si rifletteva sopra e ha prodotto un'immagine effettivamente che noi possiamo utilizzare quindi questa cosa qua già potrebbe essere esportata e applicata come texture a questo oggetto adesso questo video per semplicità non faccio tutto il passaggio in OpenSim ma perché sennò diventa un po' lungo ma volevo farvi vedere allora qui quando avete questa immagine accertatevi di salvarvela quindi fate save as andate su il vostro qui l'abbiamo messo sotto di blender ad esempio e la salviamo back at image così teniamola così per il momento quindi questa è una prima immagine salvata e la vedete che ce l'ha salvata come back at image.png se la andiamo ad aprire diventerà questa immagine vedete che la potremmo già usare adesso facciamo l'export anche con l'ada di questo oggetto quindi facciamo file export con l'ada ecco poi qua non ci avevo fatto caso l'ultima volta ma la cosa migliore effettivamente è fare sl più open sim static vuol dire che lui seleziona tutte le opzioni di default che ci interessano e a questo punto andate in sempre nel posto dove avete messo tutto di blender e qui gli salvate questa diciamo sfera con riflesso punto dae quindi export con l'ada se andate su di blender vedete che è comparso anche questo sfera con riflesso tra l'altro ricordate sempre che quando vi chiederò poi di fare il compito dovete sempre fare external data automatically pack into blend quindi qui ho messo due files dentro e quali sono i due file i due file sono le due texture cioè praticamente lo sfondo che sarebbe questo prato e questa texture che abbiamo appena fatto che abbiamo fatto il baking e quando fate un save as a questo punto qua idene come prima prendiamo di blender e qui saldiamo questa sfera con riflesso sfera con riflesso e a questo punto vedrete che qui abbiamo una sfera con riflesso che ha quasi 5 mega perché? perché qui dentro ci sono questi 4 mega più questa immagine png più ancora c'è sostanzialmente tutta la mesh quindi questo praticamente è quello che voi potete andare a impostare su quando mi mandate il compito eventualmente mentre invece questo e queste sono le due cose che dovrete portare su open sim se avanza tempo ve lo faccio vedere ma prima di farvi vedere cosa viene dentro facciamo ancora un una piccola un piccolo ragionamento cioè se volete ottenere una sfera senza tutte queste sfaccettature quindi con la riflessione piena è sufficiente è sufficiente che facciate tasto destro e facciate smooth cioè lo rendiate praticamente morbido vedete che a questo punto comparirà una riflessione senza in cui non si vedono le singole facce e se noi vogliamo avere un'altra immagine impostata in questo modo quindi potremmo anche fare un baking di nuovo su questa immagine tant'è l'abbiamo salvata e gli diciamo di rifare selezioniamo attenzione selezionare bake ed image facciamo bake questa seconda bake userà la nuova caratteristica del corpo che è di essere liscio e il risultato finale sarà una texture vedrete leggermente diversa cioè praticamente è più o meno la texture di prima ma sarà la texture che permetterà di avere vedete che c'è praticamente tutta questa cosa ora visto che abbiamo cambiato la mesh abbiamo messo il liscio e abbiamo cambiato la texture facciamo un salvataggio di questa cosa quindi ci conviene qui fare un nuovo no qui c'è un piccolo difetto in questo pezzo facciamo new folder e qui facciamo sfera diciamo non smooth e qui dentro ci mettiamo uno due e tre diciamo quindi praticamente queste informazioni le mettiamo sfera no smooth e poi facciamo la sfera smooth quindi un'altra cosa quindi dimentichiamo quindi facciamo new folder facciamo sfera sfera smooth e quindi salveremo qua dentro e per salvare qua dentro cosa facciamo prendiamo questa immagine facciamo image vedete che ce l'asterisco vuol dire che non è salvata è nuova facciamo save as andiamo a sfera smooth facciamo back at image questa la chiamiamo smooth abbiamo salvato quella e poi ricordiamoci ancora di salvare la nostra mesh quindi file assicuriamoci che si sia automatically packing to blend e facciamo infine save as sfera smooth e qui beh sarebbe il punto blend ma io in realtà volevo fare l'export con l'ADA sfera smooth qui apparezza un preset static e qui lo facciamo sfera con riflesso chiamiamolo smooth e poi se proprio vogliamo salviamo anche il blender quindi export no save as sfera smooth sfera con riflesso smooth ok e così facendo abbiamo messo tutte le texture che ci interessano ora se vogliamo possiamo provare andare in firestool e vediamo se riusciamo a importare finalmente l'ultimo pezzettino questi pezzi e questi pezzi in realtà li abbiamo già li ho già importati prima quindi vi faccio rivedere quello che ho importato l'ultima volta e facciamo vedremo un piccolo esempio di import quindi facciamo tutto il giro non appena il firestorm x64 mi farà entrare visto che su open sim ci impiega abbastanza di solito a mettere su le texture e tutto in questo video non so se vi farò vedere tutto ma vedremo adesso non appena vi farò vedere cosa cosa arriva dovreste vedere che io qui avevo già portato sempre che non mi ha ecco vedete queste qui sono sono delle sfere queste in cui ho messo il delle texture tipo quelle che abbiamo visto qui adesso ci impiega un po' caricarle però vedete che l'ha già caricato l'effetto è già notevole in realtà qui vedete che si vedono anche un po' di rilievi una bella cosa qui invece è una sfera dove gli ho messo una butteratura ma era quella quadrettata comunque vi faccio vedere adesso l'import vediamo un po' come va quindi facciamo il costruisci upload e carichiamo un mesh model un mesh model lo prendiamo da D lender sfera prendiamo prima di tutto la sfera non smooth e facciamo sfera con riflesso DAE facciamo open ok vedete che questa è tutta squadrettata e in teoria se ecco vedete che non ha preso la texture ma poco importa noi facciamo questa chiamiamo sfera video non smooth che c'ha tutti i quadretti e questa la visto che c'ha poche poche cose ci conviene mettere i load abbastanza precisi tranne forse per l'ultimo che magari va anche bene così così si vedrà sempre perfetta da qualunque distanza facciamo calculate weight and fees quando ci comparirà l'indicazione che possiamo farlo ci c'è quanto pesa sono 10' circa quindi questo è il suo peso facciamo l'upload e quindi abbiamo caricato la sfera video non smooth e c'è finita qua ora giusto per fare le cose un po' organizzate tiro su anche l'altra quindi vado in sfera smooth prendo questa carico su anche quella la chiamerò sfera video smooth ok qui facciamo il solito discorso use load above use load above tanto è uguale la carichiamo vedete che questa qua ha lo stesso peso quindi costa sempre 10' però è bella liscia quindi possiamo allisciarla e poi carichiamo ancora le immagini quindi image free e andiamo baked image smooth una vediamo se c'è la carica questa baked image smooth eccola lì e poi facciamo ancora l'upload di image e mettiamo baked image che non è smooth questa upload ok quindi le due immagini sono state uploadate quindi a questo punto possiamo prendere prendiamo recent prendiamo gli objects prendiamo prima la sfera video non smooth la rezziamo vedete che è la rezzata poi prendiamo ancora la sfera video smooth questa vedete che identica ma non è fatta così e poi prendiamo le texture quindi prendiamo la baked image smooth e gliela appoggiamo e la baked image questa e gliela appoggiamo questa ora quello che succede come vedete è che ci impiega un bel po' di tempo ad arrivare le texture di solito puoi impiegarci anche 5 minuti questo è arrivato però a questo punto ricordiamoci che dobbiamo andare sulle texture il colore mettiamolo chiaro vedete che se no prende una specie di grigetto stessa cosa qua il colore chiaro ok eventualmente potete fare full bright per vederlo bene anche questo full bright per vederlo bene e quindi avete praticamente fatto l'effetto vedete avete l'effetto riflesso quindi avete due effetti totalmente diversi sono tenuti questo usando lo smooth questo e questo invece usando non usando lo smooth vedete che probabilmente l'effetto più convincente è questo secondo quello con lo smooth ma in questo caso ricordatevi che forse proprio riflettente così tanto potrebbe non essere il massimo perché gli oggetti magari così e quindi per ottenere degli effetti non così perfetti basta poi in blend ridurre cioè aumentare un po' la rugosità l'altro trucco che ho fatto qua era stato quello di mettere il bumpiness questo il bumpiness gli mettete il brightness qui vedete che si ottiene un effetto di basso rilievo già abbastanza notevole analogamente anche qua il bumpiness sulla brightness mette un po' in rilievo certe cose vedete che si vede qualcosa che va un po' più su un po' più giù risulta tutta più o meno piastrellata quindi questi effetti sono effetti che si possono fare in open sim ma tutto nasce dalla capacità di riuscire a fare il backing in blender quindi io spero che con questi due video vi abbia spiegato un pochino almeno cosa sia cioè come si faccia a impostare un background quindi un header cioè un environment con un HDR un'immagine ad alta dinamica high dynamic range vi ho spiegato come poi sull'oggetto fargli fare la riflessione con questo nodo e vi ho spiegato come introdurre un nodo di image add texture image texture e su questa immagine attraverso la tecnica di andare qui dove c'è la macchina fotografica riuscire a fare il backing ricordatevi che il backing con questa tecnica si può fare soltanto quando si ha il cycles perché quando entrate adesso in blender 2.8 entrate in EV che vedremo che è una cosa molto bella ma se notate questo EV che vi fa vedere tra la differenza fra EV e cycles come vedete cycles è molto meglio come resa grafica e tra l'altro quando si fa in maniera professionale si usano non 32 come sta usando qua ma si usano 1000 o 2000 che danno una risoluzione veramente molto professionale quindi arriviamo proprio ai vertici per fare foto di qualità grafica notevole allora è tutto per questo secondo video e arrivederci domani sera grafica